perché siamo nella terza domenica di quaresima il tema di oggi che abbiamo sentito il tema dell'acqua acqua viva quella di cui parla gesù acqua che disseta il popolo nel deserto la prima lettura di oggi dunque il tema di oggi è certamente quello dell'acqua che dà la vita questa acqua che dà la vita nella prima lettura è l'acqua della natura che disseta il popolo il quale si era lamentato nei confronti di dio nella pagina di san paolo l'acqua che dà la vita è già intesa alla luce dello spirito santo perché dice la speranza poi non delude perché l'amore di dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello spirito santo che ci è stato dato infine nella pagina di vangelo di oggi c'è questo doppio senso dell'acqua tra quella che disseta il corpo e l'acqua che invece disseta lo spirito ed è un po su questo su cui possiamo fermarci oggi perché in questa pagina della samaritana noi notiamo come sempre fa san giovanni nel suo vangelo dei giochi di significato non si gioca sui significati delle parole e delle cose questa donna viene ad attingere acqua per la sua vita quotidiana viene a mezzogiorno cosa abbastanza strana perché a mezzogiorno non era l'ora giusta per andare ad attingere acqua dovuto a causa del calore della giornata ma questo ci dice che questa donna andava probabilmente ad attingere acqua senza essere troppo vista dalla gente non si sa forse come mai questa sottolineatura a questa donna gesù chiede da bere lui che è l'acqua viva chiede da bere e naturalmente il senso di tutto questo è bere di quest'acqua del pozzo di giacobbe da cui questa donna viene ad attingere però alla luce di questo alla luce di questo siccome la donna dice ma tu sei un samaritano come mai parli con me che sono tu sei un giudeo come mai parli con me che sono una samaritana e allora questo innesca tutto tutto una serie di riflessione di considerazioni dove gesù le dice tu non sai sostanzialmente le dice tu non sai con chi stai parlando perché se lo sapessi tu avresti chiesto dell'acqua da bere e qui naturalmente comincia a cambiare il senso di quest'acqua e questa donna dice ma tu forse puoi dare acqua da bere sei più grande di giacobbe che ha fatto questo pozzo e gesù risponde giacobbe ha fatto questo pozzo ma chi beve quest'acqua di nuovo sete invece l'acqua che io do è un'acqua che diventa un'acqua viva che scorre nel cuore della persona e non avrà più sete in eterno naturalmente la donna non comprende ma dice allora dammi di quest'acqua così io non devo sempre venire qui ad attingere a questo punto gesù le dice vai a chiamare tuo marito e allora si innesca tutto questo discorso nuovo potremmo dire cosa c'entra il marito con tutto questo discorso ma è proprio alla luce di questo che gesù le manifesta che lui conosce la vita il cuore di questa donna e quindi lei si trova di fronte a un profeta e infatti lo riconosce tale e di fronte a questo la donna chiede ma è qui che dobbiamo tu sei un profeta allora dimmi è qui che dobbiamo adorare Dio o è a Gerusalemme perché voi giudei dite che è a Gerusalemme ma noi samaritani pensiamo che sia qui su questo monte naturalmente in questa donna con questa domanda riusciamo a capire che in questa donna c'è una sete una sete di Dio una sete di conoscere più profondamente il mistero di Dio la verità di Dio ma Dio è su questo monte o è a Gerusalemme questa donna è una donna che si fa delle domande su Dio e non ha risposte e questa è la sete di questa donna che Gesù ha suscitato con la domanda va a chiamare tuo marito allora di qui si comincia a capire tutto il discorso che l'acqua di cui Gesù parla risponde alla sete di Dio dell'uomo e alla luce di questo allora che dobbiamo comprendere questo Vangelo di Giovanni chiedendoci se in noi c'è questa sete di Dio questa donna probabilmente non era una donna tanto religiosa perché forse non osava molto farsi vedere in giro aveva convissuto con diversi uomini anche tra i samaritani questo comportamento non era un comportamento nobile ma questa donna portava dentro di sé il desiderio di capire qualcosa di più di Dio era aperta a cercare Dio a desiderare Dio di conoscere di più Dio un po' come quella donna che si mette a lavare con le sue lacrime i piedi di Gesù perché lo fa probabilmente perché ha bisogno di perdono ha bisogno di riconciliarsi con se stessa e qui questa donna è un po' nella stessa situazione e però non sa rapportarsi con Dio ma lo desidera profondamente ecco allora che la risposta che Gesù dà alla sete dell'uomo è la risposta alla sete di Dio al desiderio di conoscere Dio oggi naturalmente siamo in un'epoca in una cultura che dimentica Dio ha dimenticato Dio e non c'è più questa sete di Dio così evidente come appare nella cultura al tempo di Gesù ma nell'uomo di oggi c'è un vuoto di senso nell'uomo di oggi c'è uno smarrimento di vita e forse anche quello che stiamo vivendo in questi giorni con il coronavirus e questa costrizione a vivere una quaresima da parte di tutti reclusi in casa forse tutto questo è un può essere vissuto anche come un richiamo alla interiorità ecco chiediamo al signore che lui ha i suoi piani i suoi progetti sa cosa sta facendo permettendo anche questa pandemia che si sta espandendo in tutto il mondo ma chiediamo al signore di capire anche noi di più che forse dobbiamo rientrare di più in noi stessi e la quaresima è proprio il tempo favorevole per rientrare in se stessi ed è strano che questo questa situazione virale coincida esattamente con il tempo della quaresima non è un invito a guardarci di più dentro a vivere di più la dimensione dell'intimità senza essere continuamente presi da una sete che non sazia quella cioè del divertimento o quella cioè di fare delle cose continuamente per svagarsi il fatto il bisogno di svagarsi è certe volte il sintomo di un disagio interiore e forse ciò che l'uomo vive oggi è proprio questo disagio interiore se emergesse di nuovo con questa con questo tempo di reclusione con questo tempo di maggiore intimità se emergessero di nuovo dentro di noi dentro l'uomo di oggi le domande fondamentali della vita il senso della vita se emergesse nuovamente il valore dell'interiorità dell'intimità se emergesse nuovamente il valore della relazione che in questi giorni in qualche modo siamo costretti a limitare o forse a vivere in modo diverso allora questo tempo che è un tempo di prova per tutta l'umanità potrebbe diventare un tempo anche di cambiamento del cuore dell'uomo forse anche un tempo di maggiore saggezza da parte degli uomini nei confronti della vita e della sete della conoscenza della sete che hanno dentro di loro allora mentre tutto questo ci invita anche a riflettere su queste cose possiamo chiedere al Signore che benedica questa sua umanità che ha tanto amato da dare suo figlio per noi che aiuti molti a rinsavire soprattutto gli uomini di cultura e gli uomini dello spettacolo che poi fanno opinione pubblica che aiuti anche i politici a rinsavire di fronte a questa corsa sfrenata verso il nulla o l'effimero nella quale corre l'umanità di oggi con la logica del mercato dei consumi e così via dunque chiediamo al Signore che aiuti questa umanità a rinsavire e a ritornare ad ascoltare il proprio cuore, la propria intimità per camminare verso quell'acqua che soltanto può saziare la sete dell'uomo e che è Dio donato a noi nella persona di Gesù Cristo e allora tutto questo potrà diventare una benedizione per l'umanità per il futuro dell'umanità e chiediamo però al Signore anche che liberi al più presto che renda saggi gli uomini e questo permetta di liberare al più presto da questa prova che oggi l'umanità sta vivendo se la risurrezione di Gesù fosse espressione di una guarigione dell'uomo che tutto questo diventi visibile agli occhi di tutti se l'ho dato Gesù Cristo grazie 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 Grazie.